Ok, sto registrando? Sì. Siamo on air? Sì, sì. Dobbiamo fare qualcosa. Io devo fare le meccanizzate perché ho un deficit di 5.000 meccanizzate. A Germania. Ok, ho altre 9 navi. Che cazzo ho fatto? Oh, blocca, blocca. Che cazzo? C'è, veramente? Lo sai che può entrare in guerra? Lo sai che può entrare in frazione? Chi? L'Unione della Britannia, quella comunista. Serio? Hai entrato. E che aspettiamo? Andiamo, andiamo. Entrata, entrata. Entrata? Io... Puntiamo le divisioni. Mamma mia, è arrivato il momento giusto stare in promozione. Ma poi, da dove? Perché io feci il compo. Feci il compo comunista. Ah, è vero. Ok, bene, io sto andando qua. Attaccatemi, fatemi a pezzi. Avanziamo penso un id. Sì, id. Staccatemi più un gazzo. Ups. Ne, ne cazzo di inghilterra. Ma vuoi cadere, porca troia? Ma perché vado a 10 fps? Oh, cosa? Cosa? Che è successo? Ah, perché sei in Giappone? Dove? Eh, come dove? È sbarcato. Ya... Ya, ma il Giappone... Che cazzo c'è in Giappone? Non sta a fa' un cazzo il Giappone. Giappone di me, mi per quanto. Ma scusate, capito Ada. Ma... Perché continuate a combattere? Perché sono americani questi. Ah, boh, sì. Perché continuano a combattere? Ma ha senso? Bumba atomica. Come va? Aspetta, ora si lancia. No. Ah. Giusto per dargli un po' di fastidio. Ma non è che potrei lanciare un atomica su un dungeon, eh? No. Vai fin Andia. Faglielo vedere! Vieni! Eh, uè! I miei divisioni avanzano. Vumo! Ne abbiamo sfondate male! Ok ragazzi, ehm... Abbiamo quasi sconfitto il Regno Unito. Manca davvero poco. Dovemo attaccare l'Irlanda. Che ne pensi? Eh, sto attaccare Oslo adesso. Oslo. E sto a fare dei piani di invasione per Dublino. No, io difendo, invece, la Gran Bretagna. Aspetta, ma possiamo mandare i paracatotisti? E ci ho senti visioni grande. Puoi farmi tu con i paracatotisti. Penso di sì. No, perché io non posso. Se ci sta spazio nei aeroporti, sì. No, perché io non posso. Ma perché io davvero non posso? Sì. Povera Grecia che prova a difendere. Eh, che prova ad attaccare la poverina. Trova a miscia. Sì. 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 Ottimo lavoro. Io c'ho... Sì. Cioè, io c'ho sedici di visioni a Singkang. Cioè, penso a Singkang perché... vorrei vedere avere i britici ma già sono rimasti fermi. Fantastico. Fantastico. Se sta nella piglia... Niente. Un cuno. Eh, che dobbiamo fare? Ops Ops Ehm, bombe Le bombe arrivano Non ce n'è per nessuno, cazzo Ah, ma Romain sta in Norvegia Ah, ecco dov'è Penso che stava in Inghilterra Vorresti avanzare in Africa Che ne pensi? Per ora no Ok Allora non c'è nessuno Ok Intanto difendo un'isola La grande isola Io sto attraversando le montagne della Norvegia Con i marines Che comunque penso che sia un'ottima cosa Faccio 5 divisioni di Pagatuber Oh, è buono ed avanzando Mamma Siamo in 14 minuti Siamo in 14 minuti Tante atomiche scadusche. Che possiamo fare? Ti immagino che uno mi attacca a Francia Comune? Ma perché dovrebbe? Io mi metto delle truppe, poi si vede. Io ci metto 24 divisioni. Nel dubbio, sai com'è? Non sei mai abbastanza sicuro. È come Napolonia. Peggio. Invece avevo una flotta un tempo. Ah, ecco. Sì, ma io metto patrón, porca puttana. Ah, metto. Noi. Noi. Ah, ecco. So. Ero. Ora. 3 turn un attacco del cazzo non muoiono soltanto aspetta, io provo ad andare ah no, pensavo che c'è un porto pensavo che c'è un porto eh addio, che rarri ma si bomba atomica sul dupmino qua e qua ma sei anche qua tanto poveri grecci eh la repubblica di spagna 2 milioni e mezzo quasi il green unito l'ha persi 6 milioni e mezzo mamma mia che numeri gli stati uniti d'america 7 milioni madonna 7 milioni l'ha persi 2.8 contro di me e 2.4 contro di te e il resto l'ha persi contro il giappone 7 milioni di uomini cioè tantissimo io sbarco se sbarco sbarco con 27 divisioni quindi mi conviene al porto di livello 6 l'ha persi passi ah che bello finalmente Bene dai, la Norveggia è sotto il codronco del nuovo impero. La Norveggia è tornata ad essere la nuova potenza. No. Chi che sta attaccando? Ma la Norveggia? Eh, ma da chi? Ma da che la Norveggia fa sti attacchi suicidi? Non riesco a capire. Ok, la Norveggia è quasi sotto il nostro codronco. E' una Norveggia? Una Norveggia... Stai a cazzo di soleno. Stronamente. Io direi di attaccarla. Grecia perde di nuovo terreno. Perchè sei attaccato? Oh cazzo, è vero. Ma ma ce la stai facendo? Non è anche un ganna. Ud, guarda lo distituo io. Bomba! Allora, se ne avessi fatto... Se ne avessi fatto... Non ci sarebbero più... Non ci sarebbe più niente proprio. Vai, manda una bomba. Nice! Pre più di una se vuoi. Ho preso un po'. Non mi piace, sei di seguito. C'è stato un problema. L'ho preso tutto. In teoria il Giappone è... Questa ha conquistato l'India. Quindi... Secondo me... Come conquista... Della... Gran Bretagna... Neng... 1949... Più... Della Norvegia... Della India... E di Irlanda... Penso che... Una serie... Possa finire qua. Penso anch'io... Cioè... Dovremmo conquistare l'Africa, ma... E anche in America... Però secondo me... Non avrebbe... Molto senso... Per me una vittoria... C'è... Quindi... Il nostro obiettivo è di prenderci l'India. Così è stato... Quindi... Vediamo se... Vediamo se... Possa la pace... Mmm... A chi? A gli alleati... Ma... E chi è il capo degli alleati? Eh... Agli americani... Eh... Non accetteranno mai... Ah... Pure l'India... Se cade in India? L'India, il Canada... E gli americani sono rimasti... Come capi... Potremmo mandare dei... 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 Come si chiama? Degli ene... Degli ene... Ultima delle bombe, vediamo un po' Dove? In America! Eh... Bisognerebbe conquistare qualche report... L'avecino... Dici che non ci arriva nè? Non credo... Da dove li vorresti mandò? Boh... No, vorrei mandare a Washington DC e a Ottawa, le bombe. Vediamo un po' se... Eh, ma da dove? Da dove i aeroporti? Terra Nuova, oppure da una Greenlandia, qua. Io voglio una sconfitta dell'India, ora, adesso, in questo preciso istante proprio. Visto che c'ha 11 divisioni. 10, sbagliato. Se tu con 10 divisioni non puoi tenere il controllo di questa nazione. Con 10, no. Ma che c'è? Gandhi. Ah, mi chiedeva Gandhi, è proprio uguale. Ho pensato pure io, l'ho pensato. Gandhi, The Smiling Buddha Gandhi, è tutto quanto, c'è tutto, c'è... No. C'è il Tibet. Va bene ragazzi, allora, il video e la serie finisce qua. Spero che vi sia piaciuta. Il nostro obiettivo è completo, cioè una conquista della Bretagna. E quindi anche degli anelati, anche se, vabbè, noi non la cancrono proprio in America. È la rinascita delle forze monarchiche. Esatto. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. E niente, noi ci vediamo su un prossimo video e sulla prossima serie. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao.